Sono molto stupita per questa inchiesta in Basilicata sui scarti reflui pericolosi dell'Eni, forse della Total che deve ancora incominciare a operare. Dico questo perché nella sedicesima legislatura io sono stata membro della commissione bicamerale per le indagini della criminalità collegate alla raccolta dei rifiuti e mi sono occupata e ho firmato personalmente un lungo lavoro che è durato più di tre anni sulla Basilicata. Con grandi tecnici sono stata insieme ad altri in Basilicata e abbiamo sentito proprio tutti, gli amministratori, i carabinieri del NOE, tutti i magistrati, tutti i magistrati. Il problema che sembrava allora predominante era la sicurezza dei rifiuti atomici provenienti da una vecchia dismissione di materiale che proveniva dalla guerra dell'Iraq e dai rifiuti atomici di origine degli ospedali e la sicurezza, la loro tenuta, la loro messa in sicurezza che sembrava più o meno adeguata aspettando il grande di essere ritrattati in Francia prima del grande deposito dei rifiuti atomici nazionale che ancora non si è fatto. Per ciò che riguarda specificatamente gli sfanghi derivanti dagli idrocarburi, c'erano state, sì, qualche protesta di qualche comitato, ma gli impiantieni specialmente sembravano nella massima sicurezza. Specialmente il NOE, i carabinieri, l'ARPA e i magistrati in Basilicata non ci sollevarono pressoché nessun problema. L'ARPA per ciò che riguarda la natura e lo smaltimento dei fanghi, il NOE per il collegamento criminale che invece era molto fiorente nella campagna lì vicino. Quindi evidentemente deve essere successo qualcosa di grande, di grosso in questi ultimi tre anni per ciò che riguarda la dismissione dei fanghi di estrazione degli idrocarburi, dell'ENI, non tanto dell'impianto della Total che deve essere ancora costruito. Mi dispiace veramente perché se io confronto il lavoro di tre anni e la relazione finale votata da tutta la Commissione, noi non avevamo visto nulla, né c'era stato detto nulla, né dei tecnici né dei magistrati, di questi problemi riguardanti l'ENI. Sono atti parlamentari e tutti gli atti parlamentari si può vedere. Mentre, ripeto, la più grande preoccupazione era sugli scarti atomici, delle lavorazioni atomiche, delle radiazioni. Quindi cercammo infatti dei bidoni in giro per i calanchi che poi non trovammo sulla scorta delle dichiarazioni di un pentito che poi si rivelò poco affidabile. Però ogni chiarezza va fatta. Evidentemente tre anni sono molti, in tre anni possono succedere tante cose e quello che il no e non sapeva tre anni fa l'ha scoperto adesso. Sembra che però le questioni che riguardano il governo non riguardano tanto questo quanto il futuro impianto della Total e le sue connessioni, i suoi collegamenti con la Puglia. Anche lì va fatto qualsiasi chiarezza. Giuste le dimissioni, giusto dare a questa vicenda il peso che merita, il peso che merita, senza ingigantire, senza strumentalizzare. Ma dico la verità, la cosa che mi interessa di più a questo punto è capire che cosa sta davvero succedendo in Calabria, che è una regione molto controllata, si può discutere se le royalties sono adeguati o meno, probabilmente si pagano poco, ma dal punto di vista ambientale a noi parve, e così ci fu detto, era molto sicura, molto controllata.